we bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi settimana numero 5 le sfide ce n'è una in particolare molto curiosa che ci chiede di visitare il luogo dello schianto la cala corallina e non mi ricordo l'altra isola come si chiama in italiano è davvero semplice come vedete siamo tra parco pacifico e sabbie sudate il luogo dello schianto è esattamente l'isola centrale gigante attenzione perché ci chiede anche di non nuotare quindi farmate parecchio per creare un ponte e spostarvi verso la cala corallina che in realtà ragazzi è come vedete l'isola un po più avanti luogo dello schianto cala corallina e poi utilizzando questo lembo di terra dovete proseguire su tutta la costa per raggiungere questa isola qua l'ultima location da visitare mi raccomando non nuotate perché sennò non ve la conta luogo dello schianto cala corallina e poi direttamente qua io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e io sono in live sulla piattaforma viola ciao